Buongiorno ragazzi, come stai tesoro? Andrò in un paese straniero, troverò una nuova casa e una persona speciale con cui dividere la mia vita. La prossima donna non sarà il classico colpo di fulmine, questo è sicuro. Questa volta userò la testa. Abbiamo convocato qui più di 20 governanti per un colloquio. La bambina le ha rispinze tutte. Sono la nuova governante. Il film? Mamma, mi compri un papà? Non lo voglio, milkshake! Ho detto, siediti per favore. Chiariamo subito alcune cose. Io di solito comincio con un ciao, aiuta a rilassare la persona con cui sto parlando. Buongiorno. Martedì alle 20.55.